Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola e rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Mare per incidente, 3 km di coda tra Empoli Est ed Empoli, in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13 del trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!